Motori e allestimenti optional. Quando si sceglie un'auto si rischia di perdersi. Per questo, nell'ultimo numero di al volante, c'è una ricca guida all'acquisto che passa al setaccio le gambe dei modelli più venduti nelle categorie di maggiore diffusione. Dalle utilitarie alle SUV, dalle citycar alle wagon, abbiamo analizzato 24 modelli, individuando di ciascuno la versione su cui, secondo noi, vale davvero la pena puntare. Si tratta di quelle più equilibrate nel rapporto prezzo-dotazione e più sicure. Questo mese siamo tornati al Nürburgring, il circuito più impegnativo al mondo, per provare quattro sportive molto diverse tra loro. Il nostro confronto all'ultima curva ha visto rivaleggiare l'Alpina 110, la BMW M2 Competition, la Mercedes Ainge A35 e la Porsche 718 Cayman. Il test è tutto da leggere, ma vi anticipo che la stabilità e il gran motore della Porsche hanno fatto la differenza. Tra le cinque auto finite in mano ai nostri collaudatori, vi segnalo in particolare la piccola ma vivace Volkswagen T-Cross, una crossover che ha molto da dire in fatto di comfort, guida e tecnologia. Interessanti pure la Ford K-Plus in versione Active, quindi SUVizzata, e la da 3, silenziosa berlina ibrida con un buon cambio manuale. Buona lettura.